In Abruzzo si registra un aumento di 72 nuovi casi di positività al Covid-19 su un totale di 981 tamponi analizzati. Dall'inizio dell'emergenza sono dunque stati registrati 1931 casi di positività diagnosticati dai test eseguiti nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara anche attraverso l'Istituto Zooprofilattico di Teramo e l'Università di Chieti. 306 sono i pazienti ricoverati in terapia non intensiva, 57 in terapia intensiva, mentre gli altri 1.203 sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 15 nuovi decessi che portano il totale a 194. 171 sono i guariti, di cui 146 che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid-19 sono diventati asintomatici e 25 che hanno risolto i sintomi dell'infezione e sono risultati negativi in due test consecutivi. Dall'inizio dell'emergenza coronavirus sono stati eseguiti complessivamente 16.847 test, di cui 11.188 sono risultati negativi. Del totale dei casi positivi 199 si riferiscono all'ASL Avezzano sul Monell'Aquila, 369 all'ASL Lanciano-Vastochieti, 805 all'ASL di Pescara e 558 all'ASL di Teramo. Dei 72 casi positivi al Covid-19 registrati oggi, invece, due fanno riferimento all'ASL Avezzano sul Monell'Aquila, 8 all'ASL Lanciano-Vastochieti, 34 all'ASL di Pescara e 28 all'ASL di Teramo.